Cosa ci dicono le stelle del Capricorno per quanto riguarda il mese di febbraio 2019? È Paolo Fox a svelarlo con il suo oroscopo che prende in considerazione l'amore, il lavoro e la salute In amore ci saranno delle buone occasioni e si capirà dove indirizzare una relazione Nel lavoro c'è produttività e creatività ma attenzione alle spesse. La salute va meglio nella seconda parte del mese Non ci resta che scoprire qualche dettaglio in più con le news e le parole di Paolo Fox che ci rivela come sarà questo 2019 per i nati sotto il segno del Capricorno. Iniziamo quindi da febbraio L'oroscopo di febbraio 2019 del Capricorno, ecco le previsioni di Paolo Fox per quanto riguarda amore, lavoro e salute Amore, dal punto di vista dei sentimenti il Capricorno potrà avere delle buone occasioni Questo mese è importante per le coppie che vanno avanti da tempo, vivono insieme ma ancora non hanno reso ufficiale la relazione A febbraio 2019 i nati sotto questo segno hanno bisogno di conferme e chiarezza. Paolo Fox con il suo oroscopo consiglia di non tirare troppo la corda nella prima metà del mese Infatti, le ultime due settimane saranno migliori. Il 24 si potrà comprendere qual è la strada che una relazione può prendere Dal punto di vista degli incontri, è un buon mise. Il Capricorno tende ad essere diffidente ma è ora di mettere da parte la paura e la timidezza Lavoro, per i nati sotto il segno del Capricorno a febbraio 2019 è un mese produttivo Dunque c'è la spinta giusta per dedicarsi a ciò che piace. A partire da domenica 3 venere entra nel segno e dona creatività Anche Marte è in transito positivo a partire dal 14. Dunque, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, le cose possono girare per il verso giusto Chi ha aperto mutuo o un prestito può ora far quadrare i conti. È molto importante per chi ha avuto dei problemi in famiglia o nel lavoro A febbraio delle proprietà possono far discutere ed essere oggetto di contesa. Questo a causa di tempi più lunghi del previsto a causa di Saturno nel segno Per fortuna una buona notizia è prevista il 20, il 21 o il 25 di questo mese. Bisogna contattare un esperto per risolvere determinate questioni Salute, in questo periodo è importante che il Capricorno recuperi forza fisica e stabilità Le prime due settimane del mese di febbraio 2019 sono caratterizzate da qualcosa che non va Possono esserci dei disagi il 9 e il 10. Chi soffre di mal di schiena, reumatismi o cervicale, deve prestare attenzione La seconda parte di febbraio è previsto un recupero e le cure sono favorite a partire dal 20 Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like